Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Alex Belli oggi appare felice forse anche più di prima accanto ad Elia Duran, che ha definito più volte la sua metà, la donna della sua vita, il suo grande amore Ma è lei la responsabile della sua rottura con Mila Suárez? Mila Suárez oggi è un pupa, nel programma La Pupa e il secchione show, condotto da Barbara D'Urso Alex Belli, Mila Suárez, Elia Duran.Sono passati quasi quattro anni da quando lei ed Alex Belli si sono detti addio In tutti questi anni, però, pare che lei non abbia mai sepolto l'ascia di guerra, stando a tutte le dichiarazioni che ha fatto negli ultimi mesi sul suo ex Ma qual è il vero motivo per cui i due si sono lasciati? Alex Belli e la verità sul rapporto con Mila Suárez Era il 2017 quando iniziarono ad apparire le prime foto di Alex Belli, reduce dalla fine del suo matrimonio con Catarina Ragnacola, e Mila Suárez Galeotto fu un set fotografico, tra i due scoppiò un vero e proprio colpo di fulmine che li portò a decidere di andare a convivere fin da subito Circa un anno e mezzo dopo, nell'ottobre del 2018, all'improvviso arrivò la notizia della loro rottura, come un fulmine a ciel sereno Di cose ne sono state dette tantissime su di loro, tra cui che di mezzo ci fu proprio Delia Durano, a sua volta reduce dal matrimonio con l'imprenditore Marco Nerozzi, con cui era stata per circa 8 anni Ma qual è la verità? Le versioni di entrambi.Nel 2018 Mila Suárez, sia sui suoi social che a pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso parlò molto spesso di ciò che era accaduto con Alex Belli Di accuse ne fece tantissime, parlò addirittura di violenza, non fisica, ma psicologica, dicendo, talvolta i gesti possono essere ancora più dolorosi di una violenza convenzionale, fisica A Barbara D'Urso raccontò che tutto ebbe inizio quando lui incominciò a sparire per 18 ore di fila, senza avvisarla per rassicurarla su dove fosse, tanto da convincerla a chiamare i suoi amici Raccontò anche che dopo l'operazione di chirurgia estetica che aveva fatto al naso e al seno, che a di più raccontò di aver fatto per volere di Alex Belli, l'avrebbe portata in un albergo con la scusa di farla riposare e farla riprendere al meglio e lasciata completamente sola per stare con un'altra donna Sempre secondo la sua ares poi, l'attore le avrebbe anche impedito di tornare a casa loro per prendere le sue cose, perché lì sarebbe stato proprio con l'altra donna in questione In ogni caso, sia Alex Belli che Delia Duran hanno sempre smentito di aver intrapreso una relazione mentre lui era ancora fidanzato I due hanno sempre affermato di essersi iniziati a frequentare solo un mese dopo la rottura di lui con Mila Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video